ciao a tutti ragazzi spettacolare spettacolare stasera come potete ben vedere sono usciti due ambi secchi roma e palermo sono usciti due ambi secchi roma e palermo spettacolari adesso li guardiamo subito ma comunque potete già vederli qui allora ho già digitato la precedente per la futura e allora guardiamo subito il palermo 79 66 e lo giocavo spesso tra le altre cose palermo poi ho sospeso la 79 66 andiamo a vedere se ce n'è due allora 79 66 e vediamo se c'è un altro intanto ce ne sono due no credo di no ma comunque un ambo secco tra i dodici ambi secchi di giorno giocare per ogni ruota chiaramente uno non può giocare di tutti per una spesa ovvio poi andiamo a vedere roma 24 86 allora 24 23 24 26 qui eccolo qui guardo se ce n'è un altro 3 20 36 e comunque niente due ambi secchi sia palermo che rompo il lambata qui a bari e basta e allora vediamo gli altri comunque credo perché ho già visto anche qui si è esatto 79 66 ambo in quartina in due nel quartino da giocare 79 66 eccolo qui guarda se ce n'era due per ogni tanto ce n'è due loro 24 86 24 86 e 23 86 e uno solo anche qui poi vediamo gli altri poi vediamo gli altri poi vediamo gli altri allora le altre quaterali john che su un quadro quaterno da giocare anche qui 79 66 ambo in quartina 79 66 anche qui due ambi in quartina uguali e 24 86 acquiato numero doppio praticamente per ogni tanto dei calcoli a 24 86 qui qui anche qui due due ambi su quattro quartine per per ogni ruota una due tre quattro due ambi dentro le quattro quartine e anche qui ha dato due ambi dentro il quattro quartina adesso terni eccolo qui allora qui è importante come dico sempre l'organe interno è buono c'è lambo in terzina è buona insomma con gli 80 euro più o meno 78 e rotti una se ci mette un po di più e può vincere qualche bella cifretta la 79 66 qui su palermo guardavo se ce n'è due esatto due buono avrebbe vinto il doppio 79 66 anche qui spettacolo vediamo qua 24 no qui solo ormai quando c'è di 4 non lo vedo qua come mai 24 23 83 qui non c'è non c'è qua ma dovevo vedere un po bene perché qua 24 no ha segnalato praticamente ha segnalato solo le ambate basta qui va beh comunque e adesso guardiamo le altre ma l'ordine abbiamo già visti qui anche 24 86 i pro su sei numeri san su 15 euro ad ambo credo sui numeri anche qui 79 e 66 qui e niente ragazzi per adesso è tutto mi raccomando iscrivetevi cliccate su like se volete iscrivetevi la campanella e tutto quello che volete guardate i miei dipinti su john art gallery su instagram e su facebook gianfrancosini john art gallery comunque sono anche delle playlist qui su youtube ci sono un sacco di playlist la cucina sulla musica che ho fatto comunque vedete voi per adesso è tutto ci sentiamo al prossimo video mi raccomando cliccate sul like iscrivetevi se volete io sarò ad arte genova con il mio dipinto il 15 dal 15 al 18 febbraio piazzale kennedy padiglione b c'è fiera arte fiera arte genova ci sarò anch'io con un dipinto va bene per adesso è tutto ci sentiamo prossimo video e vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti grazie a tutti ciao